Buonasera a tutti, è bello vedervi così in tanti, vuol dire che Mario Tozzi ha seminato bene in tutti questi anni, gli farei un applauso veramente per il lavoro che in tutti questi anni ha fatto per la scienza, per la divulgazione scientifica, il nostro paese umanista che qualche problema con la scienza ce l'ha, Mario Tozzi con serietà e passione e con grande abnegazione ha fatto un lavoro eccezionale. Stasera parliamo di Mediterraneo perché Mario Tozzi ha pubblicato un libro per Mondatori intitolato Mediterraneo inaspettato, la storia del mare Nonstrum raccontata dai suoi abitanti. Il Mediterraneo è stato molto raccontato, io voglio citare qua almeno tre grandi che hanno raccontato questa civiltà, il compianto Predrag Matrievic che ha scritto Breviario Mediterraneo, un vero capolavoro sulla civiltà del Mediterraneo, poi Brodel e poi un grande come Norvich. Però devo dire che leggendo il libro di Mario Tozzi sono rimasto impressionato dal taglio e dal punto di vista molto originale che gli ha adottato per raccontare questo luogo che è un piccolo luogo rispetto al mondo ma dove sono avvenute da un po' di vista naturalistico, è geologico, è naturalistico, è antropologico, sono avvenute una marea di cose. Le racconta in maniera molto accattivante, con rigore scientifico ma anche con uno stratagemma narrativo molto originale, cioè fa parlare, fa parlare elefantesse, tonni, non so perché si può risolvere questo problema, fa parlare direttamente diciamo così quelle creature naturali che non ci sono più ma che hanno vissuto in prima persona i tanti cambiamenti che sono avvenuti nel Mediterraneo. Non perdo tempo e faccio subito la prima domanda a Mario Tozzi. Cosa vedremmo innanzitutto se il Mediterraneo, cioè l'acqua, il mare del Mediterraneo venisse prosciugato? Che visione avremmo d'insieme? Ah beh questa è la prima domanda che mi sono fatto perché uno si immagina che il fondo del mare sia piatto, magari quando cresci un po' lo sai già che non è così, però insomma quando sei ragazzo o ragazzino quello che immagini è che se uno dovesse scendere sul fondo del luce uno potrebbe delle grandi distese piatte come la sabbia sotto il mare, insomma ecco solo qualcuno si azzarda a pensare che da qualche parte ci potrebbe essere qualche scoglio così ma in realtà questo pensiamo. Se invece levassimo tutta l'acqua del Mediterraneo vedremmo un panorama così frastagliato, così pieno di caratteristiche strane che ci sembrerebbe davvero straordinario. Sarebbe, è come se vedessimo lo stesso mondo che vediamo in superficie, per esempio in Italia con le colline, le montagne, i fiumi eccetera, però è rovesciato sott'acqua. È pieno di canyon, di gole, di frane sottomarine, di vulcani, di vecchi corsi riadattati, di rocce di ogni tipo, addirittura si sta nel mezzo del terreno aprendo un nuovo oceano un'altra volta, perché Mediterraneo una volta era, perlomeno è figlio di un antico oceano. Quindi avremo un'idea completamente diversa di quello che c'è sott'acqua. Insomma un panorama molto frastagliato, meno 4.000 verso Ponza oppure nello Ionio e poi distese invece più dolci andare verso i continenti. Insomma un luogo straordinario. Del resto tutti i mari sono così, tutti gli oceani sono così, sono parecchio frastagliati. Il Mediterraneo essendo così piccolo e conservando così tante caratteristiche insieme racchiude un po' le caratteristiche di tutti quanti gli oceani e dunque è pieno di novità. Uno farebbe un viaggio incredibile sott'acqua se potesse levare l'acqua. Una cosa che colpisce di questo libro è che Mario Tozzi ovviamente non fa mai il moralista rispetto al presente o meglio è chiaro che una riflessione la fa anche molto rigorosa sul presente, appunto sull'eccessiva antropizzazione, sulla eccessiva violenza dell'uomo sul paesaggio e quant'altro, però sta ai fatti e racconta la storia del Mediterraneo in maniera molto rigorosa e scientifica. Però una domanda me la sono posta leggendo questo libro. Africa, un pezzo di Oriente e l'Europa nel mare Mediterraneo trovano un groviglio, una sintesi possibile. Però la cosa che poi colpisce è che per esempio Africa e Europa che nel Mediterraneo sono accoppiati profondamente, direi visceralmente, da milioni di anni, da un punto di vista dell'organizzazione delle persone statali, da un punto di vista della civiltà, della cultura, sono così distanti, sono così separati. Ma questo è interessante questa notazione, perché che succede sotto il Mediterraneo? Che l'Africa, che è un pezzo di crosta importante, si scontra contro l'Europa. Nello scontro fra questi due blocchi, perché è incredibile a dirsi, ma i continenti si scontrano, vanno alla deriva e si scontrano. Ecco, in questo scontro l'Africa, c'ha la peggio, finisce sotto l'Europa. Da questo scontro nascono le catene montose, le Alpi, gli Appennini, le Dinaridi, le Ellenidi, e poi via via fino a Rimalaia. Ora, c'è quindi una vicinanza geologica terribile, sono a contatto. Di più, da questo scontro nascono i nostri terremoti, i nostri vulcani, tante vicissitudini geologiche del nostro paese. È uno scontro che però in geologia è la regola, avviene quasi sempre. Dal punto di vista geologico, l'Italia è tutta africana. fino alle Alpi. Ora, con buona pace i Salvini, fino al sud alpino, fino alle Dolomiti, quella roba lì è tutta Africa. Cioè noi siamo un pezzo del continente africano che si è scontrato contro quello europeo e non è finito riassorbito nelle profondità della terra perché crosta più leggera è rimasta fuori. L'unico pezzo d'Italia che non è Africa è la Sardegna, che ha infatti tutta un'altra storia. Quindi ci saremmo aspettati, che ne so, una contiguità di viventi che effettivamente un tempo c'era. Cioè avevamo più o meno anche le stesse faune e anche la stessa vegetazione da una parte e dall'altra del Mediterraneo, cioè a nord e a sud, con qualche minima differenza. Ma insomma c'è stato un tempo, come sapete, che tutto l'intero Sara era una foresta per cui quelle differenze si sentivano poco. Infatti c'erano elefanti dall'una e dall'altra parte, c'erano leoni dall'una e dall'altra parte, c'erano altri viventi simili, molto simili, uguali dall'una e dall'altra parte. A questo gioco l'Asia partecipa, perché diciamo fa parte del blocco euroasiatico e poi noi dal punto di vista politico la portiamo fino in Arabia, fino dunque al Sinai, sostanzialmente la portiamo attaccata all'Africa. Lì succede un altro accidente che divide diciamo il Mediterraneo dalla, cioè che divide l'Africa dall'Asia, ma insomma in questo complesso gioco di placche quello che ne viene fuori è un piccolo mare che ha l'1% dei mari della Terra, quindi veramente piccola cosa, che però ha il 20% delle rotte commerciali e passeggeri, dunque è importante da questo punto di vista. E con le genti che ci sono attorno, che si sono coevolute fino a un certo punto, poi si sono molto distinte, dunque separate, ma se torniamo all'antico il Mediterraneo era un mare che univa molto, chi colonizzava dalla Grecia andava in Magna Grecia, fondava la Magna Grecia senza saperlo e portava sempre qualcosa, non portava mai via qualche cosa. Era un altro tipo di rapporto, perché c'erano pochi sapiens, c'erano all'inizio poche civiltà sviluppate e raffinate e quel mescolamento che geologicamente è molto evidente, era anche un mescolamento di superfici. Basti pensare ai Fenici che se andavano in giro fino all'Africa, basti pensare, senza arrivare ai Romani, voglio dire ai Greci che appunto colonizzavano l'Italia centro-meridionale. Questo fatto geologico e di società e di civiltà in superficie ha fatto sì che a quel tempo il Mediterraneo fosse un immenso archivio. Tutte queste storie sono archivate o nelle rocce, sono quelle che racconto io, oppure invece nei paesi, nelle città, ma questo è il compito degli storici, non è il mio. Io lo dico all'inizio qui, bello il Mediterraneo con tutte quante le sue storie, i greci, i cartaginesi, con le sue battaglie, con le Repubbliche Mediane, questo io non ve lo racconto perché non è il mio. Nel libro si affrontano, devo dire con grande padronanza dell'argomento, le varie fasi di cambiamento profondo che sono avvenute nel bacino del Mediterraneo, sia per quanto riguarda la geologia ma anche per quanto riguarda le specie naturali, diciamo. Quindi per esempio racconta molto bene il passaggio da Inandert all'Eye Sapiens. Ora, lei fa riferimento spesso quella nel libro alla una specie di prova o di rischio che starebbe correndo anche questa attuale fase storica dell'umanità, diciamo, dell'umanità che abita il Mediterraneo. Allora, le domande sono due. Quali sono state le fasi, diciamo, drammatiche nell'evoluzione del Mediterraneo, negli ultimi, diciamo, poi bisogna ragionare per milioni di anni, è un'operazione molto complessa da un punto di vista dell'astrazione intellettuale. Cioè, quali sono stati i momenti di grande passaggio nella storia del Mediterraneo e qual è invece il rischio che stiamo correndo adesso? Sì, dunque, come dicevo, nel libro si racconta quello che i Sapiens non hanno potuto vedere, lo raccontano questi viventi che c'erano invece e che sarebbero gli interpreti delle rocce che noi studiamo e ci raccontano quel passato lì. Eh, il Mediterraneo, come dicevo, all'inizio non esisteva. Esisteva però un mare mesogeo, come la stessa radice del Mediterraneo, fra l'Europa, l'Asia e l'Africa. Si chiamava Tetide, era un oceano enorme, tutto sviluppato est-ovest, un vero oceano, come l'Atlantico. E dunque il Mediterraneo non c'era proprio. Sotto c'era l'Africa, sotto c'erano l'Asia e l'Europa. Ed è in questo momento che l'Italia si sta cominciando a formare proprio sul margine dell'Africa. Sono rocce marine per lo più, quelle che poi diventeranno l'Italia, non come quelle qua attorno a Termi. A un certo punto, per cause che per noi sono imperscrutabili, quest'oceano la finisce di aprirsi, perché gli oceani hanno questa caratteristica che quando si formano, da un punto di vista geologico, si continuano ad aprire, ad allontanare. Allontanano un punto dall'altro, perché da sotto fuoriesce magma che spinge lateralmente facendo allontanare i due blocchi crostali. Ecco, a un certo punto questa dinamica si interrompe e che succede che l'Africa comincia a spingere invece contro l'Eurasia. Comincia quel processo di scontro che dicevo. A quel punto l'atellite viene tutta mangiata, viene risucchiata nel processo di scontro e finisce nella catena montuosa, che è quella delle Alpi, dell'Appennino e delle altre catene che ricordavo prima. Finisce là dentro. È il bello che lo possiamo vedere, un po' per i fossili, no? Spesso voi, se abitate qui, sapete che nelle rocce di queste montagne è pieno di fossili marini, come è possibile che ci stanno, no? Non è che il mare stava su quelle montagne, è che quelle montagne formavano il fondo di un oceano, ma il cuore di quell'oceano lì era fatto da rocce magmatiche, cioè da rocce laviche, da basalti, da altre rocce di origine vulcanica. Quelle sono la testimonianza più diretta dei vecchi oceani, le troviamo dentro le catene montuose, si chiamano ofioliti, il termine viene dal greco, vorrebbe dire ofius è serpente, litos è pietra, come fossero serpenti di pietra, perché sono tutte quante piegate, strizzate e sono verdi. Queste rocce ci segnano la cicatrice di un vecchio oceano che è scomparso e noi le troviamo in tutte e quante le Alpi e sono appunto i resti della tetide. Ora poi succede che, mentre praticamente la tetide è tutta stridolata, non esiste quasi più, proprio in quel momento lì, circa una decina di milioni di anni fa, si comincia ad aprire, dove c'era la tetide, un altro oceano, che è il Tirreno. Cioè di nuovo un movimento di apertura, quindi di magma che esce dal fondo del mare e allontana, proprio nel mezzo dell'oceano. Immagina tu che se noi potevamo credere che andando a fare il bagno nel Tirreno stai facendo il bagno in un oceano vero. E quindi è una storia molto complessa perché si aprono nuove prospettive e l'ultimo dramma che ha subito il Mediterraneo da questo punto di vista è che a un certo punto, quando ormai il Tirreno stava già formandosi, dunque il mare aveva più o meno la conformazione di oggi, a un certo punto si chiude il collegamento con Gibilterra, con l'oceano atlantico e il Mediterraneo comincia a seccarsi, evapora l'acqua dappertutto, rimangono delle immense pozze di acqua stagnante ma non c'è più un mare. E così i viventi che sono là dentro devono scappare via, sono gli ultimi. Questo quando avviene? Questo avviene circa 7 milioni di anni fa, 5 milioni e 900 mila anni fa. E sono questi, non so, i cetacei, per esempio i mammiferi marini, e lì dentro non è che stavano benissimo, dunque cercano di andarsene in atlantico e così pure gli animali che vivono a terra cominciano a prendere possesso di quel fondo del mare che a quel punto non è più mare perché si sta quasi seccando. E così gli elefanti se ne vanno in giro per le profondità oceaniche e così pure le scimmie vedono, cioè è un panorama che noi non possiamo vedere ma lo sappiamo che è così. Il posto migliore, chiudo questa parte, per vederlo è la Scala dei Turchi, sapete quel monumento geologico così importante che è stato qualche, l'anno scorso forse deturpato da alcuni vandali che lo hanno sporcato di vernice rossa, no? Ecco, quelle rocce sporcate, quelle rocce bianche quasi sporcate, sono delle marne, cioè delle argille però sporche di calcare, quelle lì testimoniano il momento in cui l'Atlantico è invece ritornato dentro il Mediterraneo, è ritornato con forza, ha portato un sacco di sedimenti tra cui questi si sono poi seccati, sono venuti fuori dal mare e ci dicono del momento in cui l'Atlantico ha ripreso ad alimentare il Mediterraneo e dunque il Mediterraneo non è morto. Per questa ragione uno può, noi temiamo che il prossimo futuro potrebbe presentare fenomeni di questo tipo se continua questo gran calore e questa evaporazione e sarebbe uno dei fenomeni naturali più negativi per noi che viviamo sul Mediterraneo senza prendere in considerazione invece qui fenomeni generati direttamente da noi come l'invasione delle plastiche eccetera che insomma sono un'altra tematica. Per farvi capire lo stile molto sagace e accattivante che utilizza Mario Tozzi vi voglio leggere le prime righe del capitolo Ellie l'elefantessa visto che ha citato prima gli elefanti allora dice mi presento sono Ellie e sono quella che voi chiamereste un'elefantessa ma sarebbe più corretto dire che sono un proboscidato. La nostra famiglia di viventi è in giro da parecchi milioni di anni circa 26 per la precisione alla fine di quel periodo geologico che voi chiamate oligocene e abbiamo dunque trascorso su questo pianeta molto più tempo di voi sapiens. Allora la prima cosa importante quando leggendo questo libro è che bisogna e qui magari chiedo a Tozzi un aiuto come come si può fare cioè bisogna avere dimestichezza con una con un tempo diverso rispetto al nostro. Noi ragioniamo per noi 500 anni o mille anni sono tantissimi invece quando si parla di geologia o si parla di appunto di evoluzione della crosta terrestre è chiaro che dobbiamo fare riferimento a uno spettro temporale molto più vasto ma soprattutto ci racconti meglio questa elefantessa cioè com'è possibile com'è stato possibile che a un certo punto in Europa arrivassero questi... Ah sì sì dunque allora facciamo così prima cosa dobbiamo capire il tempo perché quando si racconta di cose geologiche il tempo è molto diverso dal tempo nostro il tempo geologico viene non a caso definito come tempo profondo cioè va proprio indietro assai noi che non ci ricordiamo nemmeno come si chiama il nostro trisnonno dobbiamo andare così indietro nel tempo che quasi facciamo fatica a rappresentarlo io però per farlo vedere siccome non mi sono portato niente puoi venire un attimo qua chiamo questo ragazzino sì se mi dà una mano così vi faccio vedere che cosa significa un po' il tempo vieni qua com'è che ti chiami Dario allora allarga le braccia per favore belle stese così ti è le stese di tese allora mettiamo che io adesso voglio paragonare l'età della terra che sono 4 miliardi e mezzo di anni allo spazio compreso fra le braccia di Dario quindi la terra è stata creata qui e oggi siamo qui giusto tutto questo spazio qui è un tempo il tempo dell'età della terra dove stanno i dinosauri che si sono estinti 65 milioni di anni fa qua saranno almeno qua ma saranno pure più qua tieni il braccio tese e dove stanno i sapiens sono nella limatura dell'unghia del medio di Dario questa è la prospettiva grazie questa è la prospettiva che dobbiamo tenere in considerazione quindi se questa è la prospettiva di tempo cioè quella polvere dell'unghia lì gli elefanti che compaiono 26 milioni non è un caso che Ellie dica 26 milioni perché gli elefanti si ricordano bene proprio tutto 26 milioni non uno di meno e gli elefanti che appunto c'erano e ci sono ancora pensate gli elefanti venivano ritenuti da Aristotele la prova che non ci fosse una terra fra l'Africa e l'Asia andando verso l'Occidente quella che poi trovò le Americhe che poi trovò Colombo perché dice ci sono gli elefanti da l'una e dall'altra parte non ci può essere niente diverso in mezzo lui aveva confuso gli elefanti africani con quelli indiani non sono affatto la stessa cosa naturalmente il collegamento era pure da un'altra parte ma gli elefanti sono animali di straordinaria intelligenza e prima erano presenti anche da noi non ce l'avevano portati soltanto Annibale e Pirro questi ce li ricordiamo no Annibale si fa Pirro arriva dall'Epiro eccetera erano animali addestrati alla battaglia no 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 signore peraltro animali nel caso di Annibale animali africani eh l'elefante africano non si fa domesticare facilmente è un brutto cliente giustamente perché insomma non c'è motivo è più grosso anche di quello asiatico dicevo ehm gli animali stavano pure in Italia quando anzi addirittura 300 mila anni fa all'Italia era proprio c'era proprio un grande struscio di elefanti quando si scava l'altare della patria sotto ci ritrovano un teschio di elefas anticus di questo di questi proboscitati enorme un teschio enorme che ancora oggi è conservato e quindi era era terra di elefanti l'Italia e dunque ben diritto elli ci racconta la sua storia perché c'era e le ha viste tutte queste cose ora per inciso volevo raccontare un buon minuto per raccontare che l'elefante è un animale così intelligente e così preciso tant'è perché elli poi quando racconta le cose mette bene in chiaro la sua precisione del ricordo che io quando sono stato in Laos tanto tempo fa ho preso la patente per portare l'elefante è un corso duro dura una settimana si si fa così si va lì si comincia con uno che viene con te poi ti lascia solo con l'elefantese ti fa la tua passeggiata lei vuole andare a fare il bagno tu vai a fare il bagno con lei lei si butta in acqua con lei non la molli per niente ma l'elefante in acqua diventa leggerissimo e fa capriole fa una cosa meravigliosa poi esce fuori vuole essere spruzzata di terra e poi alla fine della giornata vuole il suo compenso che è il cibo che gli dai 150 chili per uno di banane e ciuffi di ananasso che tant'è che alla fine della settimana mi sono domandato chi è che avesse addomesticato chi perché io alla fine gli davo da mangiare tutte le sere lei aveva fatto una passeggiata nel bosco nella foresta no ma dicevo che gli elefanti sono così intelligenti e sensibili che anche al tempo dei romani quando li portavano a morire nelle nei giochi gladiatori erano gli ultimi a morire perché non c'era nessun animale e neanche nessun gladiatore che riuscisse a averne ragione dovevano scendere apposta i picchietti delle guardie imperiali se non mica riusciva per ragione avevano strategie di difesa straordinarie animali che ricordano tutto come è noto che riconoscono i propri simili anche sotto forma di scheletro sono pochissimi gli animali che fanno questo gli elefanti reggono alla prova della macchia per sapere se un animale ha coscienza di sé quando dorme gli viene dipinta una macchia sul volto e poi quando si sveglia si trova davanti uno specchio se cerca di levarsi la macchia sul suo volto vuol dire che si è riconosciuto se no cerca di levarla sullo specchio gli elefanti se la levano da dosso lo sanno certamente che hanno consapevolezza di sé pensate che piangono i morti e festeggiano i nuovi nati dunque animali davvero straordinari da cui abbiamo da imparare e Ellie ci racconta appunto il momento in cui il Mediterraneo si è seccato e gli elefanti se ne andavano in giro a passeggio per l'Italia scendevano lungo queste pozze quelle più salate levitavano quelle più dolci ci facevano il bagno poi ritornavano nella foresta e insomma era un mondo che gli si apriva anche a loro che gli si apriva sotto gli occhi e se volete vedere questi elefanti qui nel museo di scienze della terra di Roma all'università sono conservati questi elefanti che appunto popolavano Roma stessa ma in più anche una variante che io racconto nel libro di elefanti mediterranei che per qualche ragione strana si erano trovati ad andare a vivere nelle isole a Malta, a Creta, in Sicilia, in Sardegna, a Cipro però siccome sono grossi in queste isole soffrivano quindi l'evoluzione premiava quelli più piccoli e quindi via via ma in tempi rapidissimi sono diventati sempre più piccoli fino a che nel museo di Roma è conservato un cucciolo di Elefas falconeri, una specie di questi elefanti, un cucciolo che è alto come un gatto così ma con tutte le zannette è tutto, è una cosa incredibile un po' il nanismo insulare è una caratteristica, anche i cervi riducevano le proprie dimensioni piccoli così e quindi gli elefanti ci raccontano una storia bellissima alla fine una storia straordinaria Noi parliamo spesso in maniera giustamente allarmata di cambiamento climatico, la storia del Mediterraneo è un luogo importante attraverso il quale fare una riflessione storica su i tanti cambiamenti climatici che sono avvenuti nell'arco di milioni di anni, quali sono stati i principali cambiamenti climatici nel bacino del Mediterraneo e perché questo cambiamento climatico di adesso è particolare, è diverso rispetto agli altri Beh, forse il cambiamento più grave è stato quello che ho raccontato prima, cioè il momento in cui il Mediterraneo si è quasi seccato, prima ancora quando c'era la tetide, al tempo dei dinosauri, prima che si estinguessero, sulla terra faceva così caldo che le calotte polari ghiacciate non c'erano proprio, non c'era ghiaccio ai pori, però in cambio di questo il mare era più alto, di una sessantina di metri, parecchio più alto, e anche il mare era più caldo, 12 o 15 gradi più caldo, questo però il Mediterraneo non l'ha vissuto, era prima, era sua mamma la tetide, poi il Mediterraneo ha vissuto questo periodo qua di 5-7 milioni anni fa in cui era molto più caldo, anche lì i poli ghiacciati erano scarsi, poi ha fatto invece più freddo circa 2 milioni di anni fa, fino a 10 mila anni fa, e questo freddo si è articolato in 5 grandi glaciazioni, sono quelle che ci ricordiamo nei libri di storia magari o nei fumetti, vediamo gli uomini cosiddetti primitivi con le pelli che combattono contro i mammut, nel freddo, nella neve, quindi sono piuttosto i Neandertal, ma insomma abbiamo avuto 5 glaciazioni, con 5 periodi interglaciali, queste determinate molto probabilmente da irregolarità nell'orbita terrestre, l'orbita terrestre non è lineare, nel senso che fa il suo lavoro, però ha delle imperscutabili mutazioni che portano a cambiamenti climatici, queste mutazioni sono state studiate da un fisico, un geofisico slavo che si chiama Milankovic, che ha stabilito le ciclicità di queste variazioni, e ha avuto ragione in questi 5 casi spiegando le 5 glaciazioni, perché il cambiamento di oggi è diverso, perché si è visto che tenendo presenti i cicli naturali e vedendo che tipo di ampiezza hanno, e mettendoci insieme tutti gli altri fattori naturali, che ne so, l'anidride carbonica dei vulcani, il sole più o meno caldo, cioè tutti i fattori naturali che vogliamo, in nessun modo messi su un diagramma questi fattori neanche approssimano la curva esponenziale di crescita delle temperature osservate, cioè a dire che la temperatura si alza così tanto indipendentemente da questi fattori naturali, quindi resta solo un fattore che può far cambiare il clima, non è l'irregolarità delle orbite terrestre, non è la radiazione solare, non sono i continenti alla deriva, non sono le correnti oceaniche, è il carbonio in atmosfera, e quello oltre ad avere un ciclo suo naturale, ce lo mettiamo noi per lo più, facendo una cosa che non ha mai fatto nessun vivente, dissotterrando le riserve di carbonio, cioè i combustibili fossili, e liberando quel carbonio che, stando sottoterra, sarebbe stato sottratto ai cicli naturali, stava là sotto, non partecipava al ciclo, quindi questa è la vera differenza, questo cambiamento è responsabilità nostra. Il genere umano per come lo conosciamo oggi, se teniamo a mente l'immagine di Dario con le braccia allargate, è una specie che non è detto che, non sappiamo che ciclo vitale avrà, diciamo, è un'incognita anche quella, però la domanda è questo, quanto importante, quindi, avere questa concezione temporale così larga e così profonda, appunto, lei parlava di tempo profondo, anche da un punto di vista politico, mi permetto di dire. Ah, questa è un'interessante notazione, nel senso che se chi amministra la cosa pubblica avesse una minima, benché minima, idea di che tempi hanno i fenomeni naturali, forse starebbe più attento. Il problema è che il ciclo di sopravvivenza dell'uomo politico è cinque anni, e il ciclo invece naturale della Terra è un po' più lungo. Ora, senza arrivare ai cicli lunghissimi, quelli che non si possono discernere, sul ciclo breve qualche cosa di più potremmo fare, no? Perché è vero che la Terra ha un tempo così profondo a disposizione, ma è anche vero che noi sapiens siamo la prima specie vivente che riesce un po' a alterare quei cicli. Ischia, se volete, è un esempio di questo, no? Lì le cose avrebbero avuto un'evoluzione sua. Lei ne parla del libro, tra l'altro? Sì, sì, io parlo, peraltro, attirandomi le ire di molti ischitani, nel libro io dedico una parte a Ischia, perché? Prima che ci fossero questi fatti, perché la studio da tanti anni la conosco, direi, abbastanza bene. La prima volta che la visitai negli anni Ottanta, nella parte superiore dell'isola c'erano le fogne a cielo aperto. Un'isola bellissima, di fatto, ma che poi è stata scempiata. Allora io scrivo, guardate che l'isola ha subito quella che è la legge del turismo, ne parlo di turismo a lungo nel libro perché è un tema interessante. All'inizio quest'isola, che era già inclusa nei viaggi mitteleuropei, sapete, del Grand Tour, scendevano, ogni tanto qualcuno derazzava Ischia, andava a salire il Monte Pommeo, che è un vulcano. Ora, questi primi pionieri a un certo punto raccontavano agli amici, oh, guarda che questo posto è bellissimo, e allora piano piano magari veniva qualcun altro, cominciavano a facciarsi i primi turisti. Quando si sono affacciati un po' di più, chi abitava sul posto diceva, vabbè, ma aspetta, vediamo un po', ti do una camera per dormire, ti faccio da mangiare, ti porto il pesce, ti do un oggetto di artigianato e piano piano si è allargata la cosa. C'era una ricchezza diffusa, no? Lo stesso che pescava, magari ti affittava la stanza, un altro ti faceva da mangiare, uno ti faceva da guida sul vulcano, si diffondeva ricchezza. Questo è piaciuto molto ai turisti, che hanno cominciato a venire in massa. A quel punto però non bastava più questa accoglienza qui, ha cominciato a costruire alberghi e accoglienza. Fino a un certo punto è andata bene. A un certo punto, la smania dell'accuno che prende i sapiens, hai cominciato a costruirne sempre di più. Sostanzialmente hai cominciato a fare così tante infrastrutture, ma il posto è rimasto quello. Non è che se tu su una spiaggia in cui stanno bene in cento ce ne porti mille stanno meglio, stanno peggio, non è che ci vengono più volentieri o rimangono più a lungo. E invece noi dai lì a pompare. A un certo punto le infrastrutture diventano così tante che alcune rischiano di crollare, si insinuano la malavita, perché è inevitabile che poi arrivano i cicli malavitosi in questi casi qua, e la ricchezza non è più diffusa. Quelli che arrivano su catena alberghiere ci mettono albergo loro, ma chissà che multinazionali sono, non è più roba tua. E tu vai a finire che fai il cameriere? Non è che fai tanto di più, tranne quelli più fortunati. Per aver scritto questo, dei giornalisti schitani si sono così infuriati, no basta, sei un diffamatore, così eccetera. Ecco, adesso stavo proprio seduto sull'argine del fiume aspettando di veder passare il cadavere del mio nemico, che è arrivato purtroppo. Poi queste considerazioni hanno un respiro molto corto. I geologi che la vedono più lunga, e lo sanno che significa compromettere un territorio, in funzione di un accumulo che non ti ridarà la vita di chi l'ha perduta. Con infiltrazioni malavitiose determinate poi da un abusivismo così diffuso che è stata una gran parte delle cause e anche di quelli che poi ci sono morti. Dunque, con grande dolore, purtroppo, c'avevo ragione. Lei nel libro racconta, questo è un tema molto importante evidentemente, lei parla di, il primo capitolo inizia così, lasciate che mi presenti, sono Antea, di padre e madre ignoti, del resto per noi pesci è in genere assai difficile ricostruire un albero genealogico preciso. Eppure non ho alcun dubbio sulla mia identità. Sono una femmina di tonno rosso, ovvero quello che un tempo avevate chiamato con termini nobili tunnus tinnus, eccetera, eccetera. Come sono cambiati i pesci? Faccio una domanda proprio popolare e semplice nel Mediterraneo, la vita dei pesci. E come stanno oggi i pesci? Beh, questo lo possiamo dire abbastanza precisamente perché esiste un posto in Italia straordinario che si chiama Bolca, è vicino Verona, dove c'è un giacimento fossile di pesci, il più bel giacimento fossile di pesci che si conosca, c'ha 50 milioni di anni. Dunque possiamo sapere che pesci c'erano in quella tetite lì, perché quello non era Mediterraneo ancora, 50 milioni di anni fa. Allora certi erano molto simili a quelli di oggi, i dentici, le spiego, sono uguali, predatori con quei dentini aguzzi, dimensioni variabili, sono proprio quelli. Poi i pesci angelo, altri pesci che sono simili, li troviamo in altre parti, poi ci sono anche pesci che si sono estinti. Ma il bello di quel giacimento di Bolca, giacimento fossile, è che è stata così rapida la morte di questi pesci che sono sorpresi negli atti più svariati, nel mangiare, ad esempio si vedono pesci dentro altri pesci, nel partorire. Un delfino è morto e fossilizzato mentre partoriva il suo piccolo. E si vede che i meccanismi sono esattamente gli stessi, i pesci si assomigliano molto. Poi, ecco, i tonni non ci sono, perché i tonni incrociavano più a largo, evidentemente non avevano un altro tipo di tonno, un animale straordinario pure lui, è un animale quasi a sangue caldo, noi lo consideriamo a sangue freddo perché è un pesce, ma di fatto un tonno può arrivare a pesare, il più pesante di tutti, ha sfiorato gli 800 chili. Si tratta di bestie, sono animali molto intelligenti che corrispondono, stanno sempre in movimento, non si fermano mai i tonni. E nel Mediterraneo che abbiamo fatto noi abbiamo inventato la tonnara e la camera della morte. Ora, l'hanno inventata probabilmente i fenici, non si sa bene se i fenici o i cartaginesi, poi è rimasta nelle coste meridionali, l'hanno praticata agli arabi e l'hanno portata in Sicilia quando sono arrivati a colonizzare la Sicilia per quei tre secoli. Oggi rimangono attive solo due tonnare in Italia, quella di Marzamemi e quella di Carloforte, sono le uniche due tonnare a terra. Ma non è quello il pericolo, sono le grandi tonnare volanti, le navi tonnare, quelle giapponesi soprattutto, che incrociano da queste parti per portare via quel pescato lì che viene battuto, sapete che un tonno è stato battuto fino a un milione di euro, un tonno di 340 chili, quindi stiamo parlando di una cosa incredibile. Ecco, come sono cambiati di quei pesci, è che sono quasi finiti. Noi non ce ne rendiamo conto ma il 90% dei pesci che mangiavamo negli anni 50, beh noi non ce ne eravamo, io dopo poco, rispetto a quelli di oggi non ci sono più. Peschiamo pesci sempre più giovani, sempre meno capaci di riprodursi, non so, prendiamo una platessa, la platessa campa fino a 40-50 anni, noi la peschiamo a 6 anni, è quasi ancora un'immatura, è un raschiamento della cadena alimentare, non è che andiamo tanto lontano se continuiamo in questa maniera qui. Noi non ce ne accorgiamo tanto perché nei nostri piatti il pesce c'è sempre, ma c'è sempre molto meno in mare, cioè è cambiato questo rapporto qui, anche perché questa malsana abitudine del pesce crudo ha portato a, oddio, non che i baresi o i siciliani non mangiassero il pesce crudo pure prima, ma non nella maniera così industriale. Perché è negativo il pesce crudo? Sì, è negativo perché peschi soltanto certo tipo di pesce, è sempre quello, se voi andate adesso a un ristorante di sushi, quello che vedete è un salmone allevato, che ha un ciclo in parte marino, come sapete in parte fluviale, un'orata, una spigola, un pesce bianco diciamo di questi tipi qua, poi ci vedete qualche volta il polpo, la seppia e il gambero. Questi sono generalmente, perché non è un pesce, ma insomma, questi sono generalmente gli abitanti del mare che noi, e il tonno naturalmente, che noi vediamo sotto forma di... Però non potendone fare salsa, sfilettandolo prima, non usando cucinarlo, tu ne usi molto di più, e oltretutto ce ne vuole molto di più per saziarti, alla fine perché non lo accompagni qua, sennò c'è il riso che lo accompagna, ma insomma. Quindi diciamo questa abitudine di vedere il pesce crudo ha sostituito molto spesso diete più vegetariane, e non è stato un bene per i pesci, dico, in generale. Tu pensa che per avere 15 chili di gamberi, ributti a mare 75 chili di altro pesce, che ritieni non comestibile semplicemente perché non è di moda, sarebbe comestibile, insomma, se uno volesse mangiarlo, invece la pesca non è selettiva, non riesce a pescare, e anche l'allevamento è, insomma, è un po' un disastro, pensa che adesso si vuole allevare il polpo, ora uno si domanda effettivamente ma dove ritrovano tutti questi polpi, perché il polpo stanno lì per allevarlo, ma il polpo è un animale di una grande intelligenza, che sarebbe bene lasciare in pace, almeno per rispetto per la sua intelligenza, come sarebbe bene lasciare in pace il tonno rosso e il marlin, il pesce spada, perché sono predatori al vertice della catena, è come se tu mangiassi una tigre, o un leone, non ti verrebbe di mangiarlo, invece questi sì, ma dicevo del polpo, il polpo è così intelligente che, avete visto su Netflix, c'è un documentario sul mio amico polpo, in cui si vede la sensibilità di questo animaletto che va a salutare costantemente, ce ne sono tantissimi di questi filmati, ormai si è capito che gli animali non è che non sono intelligenti, che noi non abbiamo studiato abbastanza, ma adesso con la diffusione di questi filmati potete vedere sempre di più animali comportarsi come noi, avere le nostre stesse emozioni, e lo credo, ma da dove altro deriviamo noi se non da quegli animali lì, quindi è chiaro che hanno le stesse emozioni, ma per chiudere sul polpo, hanno alcuni ricercatori che conoscevo incidentalmente, e fecero questo esperimento, allora misero dentro un acquario di quadrato di plexiglass un polpo e poi chiusero l'acquario con un coperchio che aveva dei dadi, un foro e un dato, un foro e un dato per poter respirare, e sotto ci hanno messo un po' di sabbietta, una scodellina di rame e due palline, una rossa e una bianca, sto polpo poveraccio per mangiare, secondo loro, che volevano vedere quanto il polpo era intelligente, doveva mettere la pallina rossa nella scodella, ora, se non me lo dice nessuno e mi ficca in una stanza al chiuso con una scodella e due palline, non è che io penso di mangiare mettendo una, cioè veramente un'aspettativa assurda, e infatti il polpo non mangia per due o tre giorni, poi però casualmente succede che urta la pallina rossa e questa finisce nella scodellina, quindi ottiene un gamberetto, e lui da quel momento non sbaglia più, capisce che è quello che lo fa mangiare, allora i ricercatori tutti contenti, prima di trascrivere i dati, era un venerdì, mettono un altro acquario uguale, il cubo con i fori e i dati, dentro un altro polpo con la stessa scodellina, eccetera, ma quest'altro polpo non c'ha nemmeno bisogno di sbagliare, vede il primo e fa esattamente quel lavoro lì, e tutti e due i polpi, si racconta, hanno svitato il coperchio e se ne sono andati durante la notte, chissà se è veramente andata così. Fa venire una grande voglia di studiare Mario Tozzi, diciamoci la verità, fa venire proprio voglia di, la cosa che ho evinto diciamo leggendo questo libro è che se noi conosciamo meglio i fenomeni geologici, i fenomeni della natura, quello che davvero avviene, ecco ci ha raccontato il polpo e da oggi lo guarderemo con occhi diversi anche quando andremo al ristorante, ma non per un fatto moralistico di perbenismo ambientalista che pure male non fa, però perché ci ha dato, ci offre gli strumenti Tozzi per vedere le cose da un altro punto di vista, da un punto di vista più di chi appunto conosce i reali processi e fenomeni della vita. L'essere umano, l'ha detto lei prima, è portato a sentirsi invincibile, forte, costruisce, traffica, deturpa, inquina. Certo ci siamo dati anche molte regole e molte leggi, però insomma è evidente che siamo ancora in un passaggio insufficiente. Secondo lei è possibile senza comprimere e deprimere la spontanea volontà dell'uomo di dominare quant'altro, coniugare questo bisogno di commercio, di crescita, di sviluppo, di arricchimento con una conoscenza profonda e un rispetto profondo della natura, perché da quello che lei ci ha detto mi pare di capire che è possibile, anzi è proprio la conoscenza che porta le persone ad approcciarsi poi in maniera diversa rispetto all'ambiente. No, questo naturalmente è sempre vero, è sempre vero perché molti lo capiscono, è anche vero però che è successo un fatto, sono successi alcuni fatti, il primo è che noi siamo diventati proprio qualche settimana fa 8 miliardi, e 8 miliardi di una specie come la nostra. Qualcuno si domanda perché di tante specie del genere uomo siamo rimasti solo noi? E qualche motivo ci sarà perché i Neandertal sono scomparsi, tutti gli altri uomo, Abilis, Erectus, Floresensis, non ce l'hanno fatta, alcuni si sono estinti prima che noi arrivassimo, ma insomma diciamo che Sapiens è una specie piuttosto prepotente, molto intelligente, molto tecnologica, quindi tende a occupare tutto lo spazio, non si rende conto che ha bisogno degli altri viventi, ne ha bisogno. Anche chi si occupa di economia non si rende conto che non esiste un'economia sana se non c'è una biosfera sana, perché il capitale economico si fonda sul capitale naturale di fatto, e quello è fisso per definizione. Questo è il limite, secondo lei, proprio evoluzionistico del Sapiens? È strano, no? Perché uno penserebbe che durante il corso dell'evoluzione tu trovi sempre maggiori possibilità di adattarti. Siccome i Sapiens fanno una cosa un po' diversa, non si adattano ma adattano l'ambiente, lì rischi che le leggi evoluzionistiche le stravolge un po'. Infatti qualcuno dice che con tutto questo apparato tecnologico che abbiamo la nostra evoluzione sarà rallentata o molto diversificata. Cioè non correrà come è corsa in natura per tanti altri versi, ma sarà un po' differente. L'evoluzione, pensava Darwin, fosse un processo molto lungo, lento. Noi invece abbiamo visto proprio nelle città che l'evoluzione è veloce. Lo abbiamo visto anche in casi particolari, ne racconto un paio. Il primo, in Mozambico, dopo aver sterminato gli elefanti, i braconieri ora non trovano più elefanti con le zanne, perché nascono senza. Cioè sono sopravvissuti quelli che avevano le zanne più corte o non ce l'avevano proprio. Mentre gli altri venivano massacrati, questi venivano risparmiati, dunque si riproducevano fra loro e piano piano la popolazione si è sostituita. Quindi un'evoluzione immediata nel termine dei decenni. L'altro esempio famoso è quello della famosa farfalla bistonbetularia. Questa farfallina era molto chiara, se ne stava sui tronchi di betulla, tranquilla, ogni tanto qualche uccello la predava, ma chiaro su chiaro non si vedeva. Quando arriva la rivoluzione industriale in Inghilterra, stiamo parlando quindi della metà del XIX secolo, sta farfallina rimaneva chiara, ma i tronchi erano diventati scuri perché c'era tutta la fuligine del carbone, dunque veniva sterminata dagli uccelli e la vedevano subito. Però ogni tanto ne nasceva una scura. Quella scura sopravviveva, si riproduceva con altre scure casualmente sopravvissute e alla fine sono diventate tutte scure. Quando sono arrivate le leggi di pulizia dell'aria in Inghilterra, le Clean Air Act, queste scure si sono trovate in difficoltà perché gli alberi sono tornati chiari e stavolta sono state quelle chiare ad essere avvantaggiati. Dunque noi l'evoluzione vediamo pure su tempi brevi. Noi però questo tempo lo modifichiamo del tutto perché abbiamo una serie di apparecchiature extracorporee tecnologiche che non ce lo fanno quasi sentire. Questo fa la differenza. Quale animale c'aveva una tanna come questa? Per parlare di tempi passati. Quale animale c'ha uno smartphone? Ora è vero che nella giungla probabilmente lo smartphone non è così utile, per questo lo scimpanzai non lo inventa, non perché non è più intelligente. Ma noi rischiamo di mettere a nudo un processo evolutivo che certamente non si fermerà ma prenderà una via determinata molto di più dalla cultura che non dalla biologia. Solo che la cultura non la trasmette i pergeni, la devi insegnare. E questo fa un po' la differenza. Anche altri animali trasmettono cultura, cioè insegnano la propria parola e quello da fare. Ma il sapiens è l'unico che messo al mondo non potrebbe sopravvivere. Il sapiens da solo se non arriva almeno a tre anni, quattro anni d'età non sopravvive. Un videlino sta subito in piedi, una scimmia subito si muove, un sapiens piccolo nemmeno sta in piedi, è morto. Questa neotenia, come si chiama, cioè questo svilupparsi quando sei già nato, per arrivare ad assumere certe caratteristiche anche il cervello deve ancora svilupparsi quando sei già nato, è stata un'arma per certi versi. Ma rischia anche un po' di ritorcersi contro almeno alcuni di noi, se non tutti quanti, perché tutti vogliamo di più, tutti siamo consapevoli, tutti conosciamo, ma il mondo resta quello però, non è che lo possiamo ampliare. Questa è una cosa molto importante, se mi posso permettere un'analogia, il modo di raccontare la geologia di Mario Tozzi è quasi una psicanalisi, perché è un invito all'uomo, all'essere umano, a connettersi con la parte profonda del suo essere, che è sempre naturale, diciamo. E quindi credo che questo modo di raccontare le vicende del Mediterraneo, in questo caso, vulcani, placche e quant'altro, sia davvero una sorta di psicanalisi, una psicanalisi profonda che solo in apparenza riguarda qualche cosa di esterno alla nostra anima, invece secondo me ha a che fare molto con il nostro modo di essere. Secondo me, riconnetterci con la natura è qualcosa che può farci soltanto bene, visto che ci ha fatto capire che qualche problema come specie ce l'abbiamo. Io non posso far altro che chiedere di fare un grande applauso a Mario Tozzi per questa grazie. Vi garantisco che non è facile utilizzare e maneggiare tutti questi materiali e argomenti dalla paleontologia al mondo degli animali e quant'altro con questa felicità e facilità e devo dire capacità di sintesi. È qualche cosa anche di rischioso, perché un uomo di scienza ha sempre paura di dire qualche cosa di eccessivamente sintetico. però è una dote rara e sono felice che il servizio pubblico, e non solo, abbia dato a Mario Tozzi la possibilità di essere la voce del racconto della scienza in Italia. Quindi veramente complimenti. Grazie. Due note di servizio. Fra poco ci sarà l'incontro con Donato Carrisi, che è il... Ecco qua adesso, subito, mi dice Melloni. C'è l'incontro con Donato Carrisi, che è un grande bestellerista, quindi il re del crime, della letteratura crime in Italia, e poi mi hanno mandato un pizzino, prima io vi leggo perché non l'ho capito bene, ma lo condivido con voi, mi hanno scritto al termine dire che l'uscita è dalle porte laterali, c'è fila per Carrisi, grazie. Quindi credo che si esca da là, però ok, giusto, ho detto anche il grazie. Ah, ultima cosa, il libro di Tozzi si può acquistare allo store dei libri qui a sinistra. Grazie ancora.